Ci sto, ci sto, fammi il quesito, fammi il quesito. Gattuso, fa bene a prendere con la mazza, a cantargliele, a suonargliele a tutti quanti? Secondo me, sì. Sì, l'aconico, basta così. La frusta ci vuole, Rino, la frusta! E sarà questa la svolta, secondo te? Eh, lo speriamo. Lo speriamo, andiamo avanti, andiamo, procediamo. Vediamo nei percorsi di Radio Marte, chi altro... Ah, Michelangelo Orsano, Michelangelo Orsano, eccolo qua, eccolo qua. Ma, che ti devo dire? Fa bene, Rino Cattuso, a cantargliele, a suonargliele ai calciatori, ai giornalisti, ai tifosi? Sì, con tutti i tamburi che possano, sì, gli devi suonargli con i tamburi. Gli devi suonargli con i tamburi, sarà questa la svolta del Napoli, la svolta del Napoli sarà questa. Procediamo, andiamo a vedere chi altro c'è a Radio Marte, guardate il corridoio. Io devo entrare qui, in questa zona, nella zona dei Big. Leonardo, Leonardo, fa bene Gattuso a prendere di faccia e di petto calciatori, giornalisti di fuori? Assolutamente sì, fa benissimo. Sarà questa la svolta del Napoli? Svolta assolutamente. E allora, se questa è la svolta, lo chiediamo... Ci sono, eccomi qua, non aver paura, non aver paura. Fa bene Gattuso a prendere di faccia calciatori, giornalisti e tifosi? Sì, fa benissimo, ralla un faccio. Basta così. Sarà questa la svolta per i Napoli? Sarà questa la svolta. Allora Gianni Simioli ci mette la firma, arrivederci e grazie. Adesso abbiamo altri due grandi protagonisti che ci devono parlare di Gattuso, ma fa bene Gattuso a prendere tutti di petto con la forza? Fa benissimo, Gattuso, ralla un faccio. Ralla un faccio, pesantemente. Diggielo, diglielo, serio, ma poi manca di testa. Così, così si migliora, così si migliora. Sicuramente sì, basta, basta, non mi pazzia più. Adesso per fare le cose serie, basta. Se lo dice Giggiorosa, entriamo anche qua. Toni Molà, Toni Molà, fa bene Gattuso a dargliele? Fa bene a dargliele, a dargliele sempre. Fa bene a dargliele. Anche lei ci deve parlare di Gattuso, sì, prego, buonasera. Che dire, a parte il fatto che Gattuso fa rima con un sacco di cose interessanti, tipo una? No, lasciamo stare. Però vi dico, andiamo e spacchiamo. Spacchiamo, eh. Racegliamo, racegliamo. Basta, ci avete rotto. Basta. Ah, belle donne di carattere, di polso, quanto mi piacciono, quanto mi piacciono.